Serata dedicata o meglio che inizia con le gare della Crese League, si inaugura il girone C ed è iniziata grazie al fischio dell'arbitro che il signor Bencic, la gara che mette di fronte Ginpliz, la squadra in divisa blu stile nazionale italiana contro la squadra nero oro del oreficeria Laurenti Stigliani. Scevolata concedere il primo calcio d'angolo già battuto da Ginpliz, Zinic prova a completare l'1-2 con Ellero, palla recuperata da Levi, poi Giulio Sistiani uno contro due fino in fondo Sistiani, il tiro in porta, ha alzato la testa, ha fatto pensare tutti a un cross e invece arriva il gol che sblocca la gara col sinistro che inganna Jacopo Odorizzi, 1-0. Per l'oreficeria Laurenti Stigliani con il gol di Giulio Sistiani. Occhio alla palla persa solo per un attimo da Laurenti Stigliani che poi recupera, può attaccare di prima, buona questa azione che si sviluppa in velocità, poi la respinta imprecisa da parte di Odorizzi. Il tap-in di Levi che scrive il 2-0 per Laurenti Stigliani che qui ha accelerato improvvisamente. Conclusione, la prima respinta, bravo Levi ad essere lesto, pronto per il tap-in, facile facile da 0 metri, 2-0. Numero di Bove che prova ad andarsene, poi Jankovic rischia di perdere un pallone, alla fine lo perde, occhio a Favone che se la porta sul destro. Calcia in diagonale, bucato, Peric torna subito in partita, Jim Plis che si sblocca, trova il gol che dimezza lo svantaggio, ora il risultato è 2-1. Ha segnato con il numero 97, Carmine Favone. Ellero gestisce sull'attacco di Rabusin, 1-2 rischioso con Apostoli che però riesce, allora si apre il campo per la ripartenza dei blu, attacca Jim Plis, filtrante per Favone che calcia col sinistro. Pareggia i conti, doppietta per il 97, minuto 15 del primo tempo, tutto di nuovo in parità, in equilibrio. 2-2 ha pareggiato Jim Plis con la doppia di Carmine Favone. E deposita in fallo laterale dalla parte opposta, ha cercato Kautzer che sposta Bolcic, poi controlla e calcia Pizzameir in pallo, Kautzer dentro per Levi, col tap in, stavolta di destro, riporta avanti, rimette la testa avanti. Laurenti Stigliani è doppietta per Lorenzo Levi, 3-2 il risultato nel primo tempo, minuto 20 della prima frazione di gioco. Fischia Bencic, parte Carocci a giro, deve toglierla dall'incrocio, Odorizzi, tiro non potente ma preciso, Kautzer rimane avanti, Laurenti Stigliani, Kautzer trova Rabusin, palla che gira fino a Levi, che trova la tripletta, calciando stavolta con il destro. Accelerazione importante, spallata alla partita nel risultato per Laurenti Stigliani, ora è 4-2 in un momento molto pesante nell'economia della partita, mancano due minuti al termine del primo tempo, più due oreficeria, Laurenti Stigliani su Jim Plis. 4-2 il risultato per chi attacca, Rossetti palla di ritorno, imprecisa, ultima azione di questo primo tempo, si va a riposo all'intervallo con Oreficeria, Laurenti Stigliani, avanti su Jim Plis, 4-2 in questo match del girone C della Crese League 2022. Peric, una finta, e poi rinvio per allontanare le preoccupazioni, buono l'arresto di Rabusin, che si gira 3-2, il destro di Rabusin in due tempi, Jacopo Odorizzi anticipa l'idea di tap-in di Sistiani, si rimane sul risultato di 4-2. Esce Levi per far entrare Pizzamei, è rientrato anche Apostoli, gli ha lasciato il posto Giuseppe Giannone per Jim Plis, che ora attacca con Nicola Giannone, tre quarti, pensiero anche per la conclusione che arriva, si distende Igor Peric con una parata non facile, buttandosi sulla sua destra, concedendo soltanto calcio d'angolo a Jim Plis, che ovviamente ci crede. Vicino su Bolcic, esce su di lui Suran, cercato Giannone, anticipato secco e regolare, stavolta da Pizzamei, 2-1 Sistiani e Pizzamei contro Bolcic, calcia Sistiani e piega le mani a Odorizzi, è il gol del 5-2, è la doppietta per Giulio Sistiani, gol pesante, arrivato quasi a metà del secondo tempo, più 3 per Laurenti Stigliani su Jim Plis, 5-2. Jim Plis, ma ne esce col palleggio, è una grande azione, Laurenti Stigliani, Sistiani mette dentro, col tacco Pizzamei, gran parata di Odorizzi, che mantiene il divario di tre reti per i suoi. Impadronirsi del pallone in un primo momento, poi ci arriva Sistiani, sponda, Rabusin controlla, palla dentro, deviazione, Sistiani ancora Odorizzi a tenere in piedi i suoi, con riflessi. Sistiani, bravo a smarcarsi, è partito Rabusin, Sistiani sposta, Bove guarda, solo il pallone recupera, poi lo perde sull'attacco di Rossetti, calcia Rossetti, adesso sì che arriva il gol del 6-2 sul tabellino. Finisce anche Giorgio Kosulic Rossetti, protagonista di un'azione totalmente improprio, ha sradicato il pallone dai piedi dell'avversario e ha firmato il diagonale. Nella formazione di Jimpliz, chiaramente abbattuta dal risultato che è largo, ma si accorcia leggermente ora con l'autorete, abbastanza clamorosa, retropassaggio se abbiamo visto bene di Rossetti, si dimentica il controllo, se la fa sfilare sotto la suola Peric, quindi il risultato che diventa 3-6. Spende l'ultime energie con l'orgoglio, Jimpliz, palla che si perde a fondo campo, fischia tre volte, Bencic inizia con una vittoria, il cammino di Laurenti Stigliani in questa Crese League nel girone C 2022, batte 6-3 Jimpliz, grazie alla tripletta di Levi, la doppietta di Sistiani, che quindi finiscono come protagonisti di questa gara, non basta a Jimpliz la doppietta di Favone più l'autogol nel finale che ha solo ridato qualche flebile speranza a Jimpliz. Vi ricordiamo il title partner di questa edizione che è Zanutta, gli altri partner concessionari Trieste Auto, Gomme Marcello, Revisioni, Farmacia Picciola, La Croce Bianca, Heineken e Macelleria, daremo frutta e verdura. Grazie